quale di questi conosci che adesso passa perché venga a cuore dei abrumotti faccio la mamba la mamba la mamba la bamba ecco la bamba non la mamba la bamba se c'è la bamba quelle la bamba non mamba e quelli che fanno questi disegni sui muri questi ti piacciono quel di fronte a te no non sono fatti bene si muro così sono sembra sporco disordinata anche rovina la città poc sore proten lcn vante cest pest h24 taggaroli seriali a centinaia che si offendono e si chiama taggaroli la città è letteralmente invasa tu hai fatto il disegno qua di e come gli devo fare di se no e chi è chi è chi è mamba ce l'abbiamo il primo quello più conosciuto mamba fatca noce come dicono a grumo appula fatca noce i cassonetti dei rifiuti anche quelli nuovi di zecco quelli appena messi dal primo giorno che sono stati messi tutti i protecchi a tipo da protec protec non teniamo protein qua se sta ce l'abbiamo ce l'abbiamo tu sei stato a dipingere la pensilina dell'hamtab la verità no no la benzina della macchina la pensilina dell'hamtab quella dove lei se ne so a poi minuto la bella tu avevi la bomboletta hai fatto la i giorni di oggi come loro a buona smettola per te marco tutto in mità feca la bomboletta come te i giovani come te siamo sicuri che mamba sia giovane non tua madre mamma mamma siamo sì quel che firma quel che firma qua di è giovane mamma secondo te dici che è giovane mamma 83 anni non tu signor mamma non tu no no banda mamma non è giovane mamma non è giovane mamma non è giovane non è giovane secondo te non è giovane non è giovane e prima i dati giovani come a te i giovani allora è giovane conosce uno di questi signori no come no le dico che lo conosce sicuramente uno di fronte a lei lo so che le guarda perplessa ma è di fronte a lei guardi meglio noi posti signora si sposti loro sono loro sono guardi quanto c'è mamma è vero lo vedo ovunque lo vedo ovunque ma quindi mamma è quello che conosce più di tutti tra loro e il più diffuso diciamo così le piace questo genere di arte si è fatto bene sì quella è fatta bene insomma secondo te c'è così è profondo e intenso ma se cazzo di altro non so se me lo dire cioè vabbè però è una cosa perché nella psichiatrica metri che d'acqua profondo intenso profondo umore profondo però intenso si qualche bel che è un bel scritto da dei mettete qualcosa affinché si possa andare a imbrattarle perché senza la protezione a panghino non è possibile poi imbrattarle anche in alto sotto la pioggia pensate a quelli che vengono qui vabbè da garolio non la pensino in va sistemata perché così non può rimanere vabbè noi aspetta che 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 autobus passi qua che ho perso il coglione è meglio se non gli prendo gli autobus perché non devo perché tu si ferma ci sono certi disastrati quando aprendo il tramo stanno comprando quelli nuovi però magari se ci faccio il fratello siamo alla page siamo diciamo siamo alla page siamo all'interno siamo all'interno